Una passione genuina è come un torrente di montagna, non ammette ostacoli, non può scorrere all'indietro, deve andare avanti. Questa frase è la prepista perfetta per introdurvi alla filosofia di un uomo che si è guadagnato fama ed ammirazione consacrando devotamente quell'ossessione che ha sempre fatto parte della sua vita, il cinema. Se ancora non aveste capito di chi sto parlando, vi dico che a questo signore dobbiamo uno dei videogiochi più rivoluzionari e importanti del genere stealth. Inutile girarci ancora intorno, no? Il protagonista di questo episodio di Memory Ricard è Hideo Kojima e con lui oggi scopriremo la genesi di Metal Gear. Ma prima? Bentornati o se siete nuovi benvenuti mi presento, io sono Ilaria Gentili per gli amici del Web Sam e sui miei canali tratto di divulgazione e approfondimento di tanta narrativa e studio di quel fantastico medium che è il videogioco. Ormai avrete imparato come funziona. Come in ogni altro episodio, di Memory Card, anche la storia di Hideo Kojima ha uno sviluppo molto singolare. Nato nel 1963 nel quartiere di Setagae di Tokyo, purtroppo non visse la migliore delle infanzie. La morte prematura di suo padre, che avvenne quando lui aveva soli 13 anni, fu un vero e proprio trauma che lo segnò per sempre e fu anche il preludio che portò la famiglia a trasferirsi più e più volte, minando così inesorabilmente le sue amicizie. L'aura di solitudine che però lo circondava fu anche la stessa che lo spiense a cercare conforto nelle letture e nelle pellicole che tanto amava. Soprattutto quelle di stampa occidentale, fautrici di quella volontà irrefrenabile di mettersi alla prova nel ruolo di regista. Spenderà quindi molto tempo in esperimenti con pellicole da 8 mm e scrivendo racconti, senza farsi scoraggiare né dai rifiuti né dalle difficoltà. Soprattutto quando deciderà di inserirsi nel panorama videoludico. Come c'era da aspettarsi, qualsiasi carriera che non prevedesse un certo prestigio e una sicurezza economica era vista malamente sia dalla società che dai familiari. Tuttavia, l'ambizione di questo giovane 23enne non si fece scoraggiare da niente, grazie anche al supporto fondamentale di sua madre. Ed è proprio vero che chi la dura la vince, perché nel 1986 Hideo Kojima riesce finalmente ad entrare in una quotata industria videoludica. Eh sì, sto parlando proprio di Konami. Ora, come c'era da aspettarsi il primo periodo all'interno dell'azienda, fu il peggiore. Colmò anche di frustrazione perché non poteva lavorare con il Famicom a causa della sua inesperienza. Ma Hideo non mollò mai di un centimetro. Quel desiderio di rivalersi su tutti coloro avevano disdegnato la sua scelta di vita e non avevano mai creduto nelle potenzialità del mondo videoludico. Era come un fuoco che lo bruciava dentro e lui non aveva la men che minima intenzione di farlo spegnere. E la prima opportunità di farsi valere arrivò quando venne assegnato alla codirezione di Penguin Adventure, il cui platform a scorrimento era molto limitato, ma in cui riuscì lo stesso a lasciare il suo contributo, aggiungendo power up, nuove ambientazioni e soprattutto la possibilità di sviluppare più di un finale. Fu una buona prova che gli fruttò lo spostamento come planner su un altro progetto, Lost World, che purtroppo ebbe una fine infelice perché ritenuto troppo ambizioso per le possibilità dell'MSX e per questo venne cancellato. Visto il fallimento del progetto, Hideo temeva che ormai le sue possibilità di fare carriera nell'azienda fossero seriamente compromesse. Ma ecco che accadde un fatto inaspettato. Nel 1987, nonostante il fallimento pregresso, venne coinvolto in un progetto che prevedeva lo sviluppo di un gioco di stampo militare che andasse ad opporsi ad altri titoli simili sul mercato. Dopo l'esperienza di Lost World, il rischio più grande per il progetto riguardava sempre le limitazioni dei computer MSX2, contro cui purtroppo non si poteva fare nulla. Non supportavano lo scorrimento delle schermate e potevano gestire solo 4 sprite orizzontali alla volta, quindi sembrava una sfida persa in partenza, non avendo fisicamente i mezzi per potersi mettere in competizione con altri titoli. Ma ricordiamo che ciò che distingue un genio da un mare di gente comune è la capacità di rendere le proprie debolezze il punto di partenza per costruire qualcosa di nuovo. Ed è esattamente quello che fece Kojima, ideando un concept mai sentito o visto prima di allora. Un gioco di guerra in cui non si deve combattere, ma si deve fuggire dai nemici. Ma ecco il problema delle novità. Sono un atto di fede, no? Citando Into the Spiderverse. E una società come Konami non può proprio permetterselo a cuor leggero. Eh, però, un genere simile non esisteva. E sì, ragazzi, stiamo assistendo proprio ora alla nascita del genere stealth. Insomma, non ci si aspettava che un gioco pensato per l'azione invece prevedesse un'interazione così limitata, dovendo pensare solo alla fuga. E quindi Deo riflette su questo. Solo scappare non funziona? Allora perché non dipingere intorno alla vicenda una storia alternativa di spionaggio internazionale, in cui la guerra fredda si è prolungata e il nostro protagonista deve impegnarsi in una missione sotto copertura, senza essere scoperto dai nemici. Già fa respirare un'area diversa detta così, non pare anche a voi. Il nome provvisorio del progetto diventò Metal Gear Intruder. Il suo punto cardine era basato sulla gestione del game over, in quanto non si perdeva nel momento in cui si veniva individuati dai nemici. Ma l'individuazione era proprio il punto di partenza che dava il via a tutta l'azione del gameplay, che consisteva nel riuscire a tornare nell'ombra. Per quanto il concetto base fosse ispirato all'idea di Pac-Man, soprattutto se pensiamo al momento in cui bisogna fuggire dai fantasmi, la rielaborazione di Deo fu a dir poco rivoluzionaria e divenne il caposaldo che avrebbe continuato a permeare tutti i titoli della saga. Il soldato sconosciuto che rappresentava la speranza più grande di svelare il significato dietro l'ultimo messaggio trasmesso da Gray Fox, il membro più esperto dell'organizzazione paramilitare Fox Sound, ma di cui si sono perse le tracce. Un messaggio composto da due sole parole, Metal Gear. Non penso di dovervi raccontare il resto. Uscì il 13 luglio sulla versione MSX2, guadagnando subito ottime posizioni in Giappone, ma consacrarlo in occidente fu la conversione per NES grazie alla quale rimase in classifica per tutto il 1988, superato solo da Super Mario Bros. Fatto spiacevole da raccontare riguardo questa conversione è che Kojima non venne minimamente consultato in merito, ma questa venne avviata per direttive precise dell'azienda per fini puramente commerciali. Il risultato venne conseguito comunque anche se al costo di alcuni tagli sostanziali che vennero fatti, compromettendo la sequenza di apertura, alcune mappe e influenzando anche il livello di difficoltà, con conseguente compromissione della natura stealth rispetto al concetto originale. Danno fatto, per modo di dire, ma resta il fatto che il risultato conseguito aveva dell'incredibile. Dopo l'enorme successo di Metal Gear, nei mesi successivi Ideo pensò di dedicarsi ad un altro progetto, di nome Snatcher, su cui poté sbizzarrire tutta la sua creatività cinematografica, dedicandoci oltre un anno e mezzo e rendendolo un gioco di culto. Tuttavia questo succedeva mentre alcuni membri del vecchio team di Metal Gear erano a lavoro su un sequel e, pensate un po', Kojima non ne sapeva nulla. Fortunatamente non si trattava di un sequel canonico, ma solo un modo della Konami per monetizzare sopra la versione NES. Allora quale miglior momento per proporsi di iniziare a lavorare su un vero e proprio Metal Gear 2? A fare la prima grande differenza fu senza dubbio il sostanzioso budget messo a disposizione da Konami, grazie al quale Ideo e la sua squadra potevano impegnare anche diverse giornate approfondendo le conoscenze militari da inserire nel gioco. Se l'obiettivo precedente era quello di aggirare le limitazioni dell'hardware, stavolta l'obiettivo è arricchire il titolo facendosi forti della formula originale. E ci riuscì alla grande. Consapevole di aver acquisito una certa leadership creativa, Ideo creò in primis una sequenza d'apertura incredibile che rispecchiava tutto il suo amore per il cinema occidentale. La giocabilità raggiunse un altro livello, con una mappa sempre a disposizione che consentiva di visualizzare la propria posizione e quella dei nemici. E per non far perdere il senso di sfida, bilanciò questa apparente facilitazione, facendo sì che il radar si disattivasse durante la fase di allerta, fino alla conclusione della fase di evasione, per la quale partiva un conto alla rovescia per uscire dalla zona dei nemici. Aggiunse agli scenari dei particolari pavimenti, che generavano uno specifico suono e che faceva da esca ai nemici. Alcune chiavi che variavano di stato a seconda della temperatura, oltre ad introdurre una primordiale scatola di cartone, ormai un must della saga ma che consentiva di celarsi alla vista dei nemici sotto il suo naso, non perse occasione per coinvolgere il giocatore, inserendo sequenze che rompessero la quarta parete. Di Solid Snake possiamo dire che qui raggiunse la sua identità definitiva, determinata dallo squisito mix di cinismo e pessimismo, a cui si aggiungeva quell'umanità così sincera per cui era impossibile non affezionarsi a lui. Un personaggio che poteva essere vissuto appieno, grazie anche all'ottima scrittura dei dialoghi a cui si poteva assistere via radio. Il definitivo Metal Gear 2 Solid Snake uscirà nel luglio 1990, ottenendo uno straordinario successo di critica, anche se purtroppo verrà penalizzato all'estero, avendo ricevuto a lungo una distribuzione limitata solo alla madrepatria. Nonostante l'ottimo successo ottenuto, Konami non lo ritenne incredibile tanto da dover immediatamente far partire lavori per un sequel, per cui Kojima sfruttò nuovamente la situazione per impegnare il suo tempo sperimentando altre possibilità. Nei primi anni 90, quindi senza fretta e pressioni, decise di risolvere un problema che già da tempo non gli permetteva totale libertà con il suo estero creativo. Questo limite che sentiva era costituito dall'essere costretto a dipendere e a venire a compromessi con il lavoro dei programmatori. Ok, ma come si poteva farne a meno? Trovò la soluzione scegliendo di realizzare un nuovo engine dedicato, che gli consentisse di scegliere le tempistiche con cui far partire le animazioni, oppure i temi musicali senza aver bisogno di ulteriore aiuto tecnico. E proprio forte di questo strumento, si sentì in grado di poter gestire i suoi progetti con molta più libertà. Si buttò a capofitto su un altro lavoro, un ibrido fra fantascienza e poliziesco, Polisnotts, destinato anch'esso a diventare un altro piccolo cult. Proprio al termine di questi lavori, finalmente, riterrà che i tempi siano maturati abbastanza per portare finalmente Metal Gear nelle tre dimensioni. Ed è qui che Kojima raggiungerà l'apice della sua carriera e di crescita creativa, con il terzo capitolo della sua saga che lo ha reso famoso. Metal Gear Solid, termine che venne inserito per sottolineare la sua capacità di sfruttare la tecnologia d'avanguardia dell'epoca, il 3D, che negli anni 90 era qualcosa di sbalorditivo rispetto alla classica grafica bidimensionale. Il contributo più importante accanto alla direzione creativa di Hideo venne dalla collaborazione con Yoji Shinkawa, un illustratore giapponese che lasciò un segno visivo indelebile all'interno del titolo, dando una nuova anima ai personaggi e riuscendo a creare dei concept funzionali che agevolavano di molto il lavoro svolto dagli animatori e che incarnavano alla perfezione le aspettative e le idee di Kojima. Basti pensare al solo modello di Snake che tecnicamente era composto da più di 700 poligoni e che a livello di character design aveva acquisito una forte influenza olivodiana, con il fisico ispirato a Jean-Claude Van Damme e con le fattezze di Christopher Walken. Nel passaggio fra la preproduzione e la produzione si innescò un'accesa discussione che vedeva una parte del team sostenere l'idea che il gioco dovesse svolgersi in prima persona, al fine di enfatizzare al massimo le possibilità delle tre dimensioni e dare al giocatore un'esperienza il più realistica possibile. Hideo invece sosteneva la necessità di mantenere la terza persona, in quanto temeva che l'engine non sarebbe stato in grado di sostenere la prima persona abbinata alle meccaniche stealth. Tuttavia non bocciò a priori l'idea, perché come si può constatare dal gioco stesso, il giocatore può scegliere di passare alla visione in prima persona nel momento in cui rimane fermo. Hideo prese il controllo totale della presentazione cinematografica, usando le telecamere digitali con un'impostazione registica, anche se la gestione di queste era estremamente complessa. Solo un lungo e accurato studio in preproduzione di ogni singolo livello di gioco avrebbe portato i risultati sperati. Ed è per questo che il lavoro che fu dietro la preparazione di ogni inquadratura fu maniacale. Sviluppata tramite un rudimentale sistema di previsualizzazione che prevedeva la costruzione di ambienti in miniatura attraverso cui passava una piccolissima telecamera che consentiva di studiare le inquadrature migliori. Questo, abbinato all'incredibile libertà che si voleva lasciare al giocatore, creò una vera e propria visione cinematografica di tutta l'esperienza. Un'altra operazione assurdamente ragionata fu quella di portare il team composto da game designer e programmatori in gita in un centro di addestramento in California, per imparare quanto più possibile in prima persona riguardo le strategie per infiltrarsi, le varie tipologie di armi e anche i veicoli militari, aumentando la credibilità del racconto e ampliando la varietà di gadget e armi che potevano essere raccolti. Ancora stavolta fu il budget fornito dall'azienda a fare la differenza, dal momento che Idio si poteva permettere anche un autentico cast di doppiatori occidentali, tra cui la star David Hayter, la cui interpretazione influenzò direttamente l'identità e la caratterizzazione di Solid Snake, divenendo un'icona per i fan, per la sua capacità di cogliere in pieno l'alternanza tra il cinismo e l'umanità del personaggio. Quando iniziarono a mostrarsi le prime sequenze giocabili, in fiere come il Tokyo Game Show del 1996 e le 3 del 1997, Metal Gear Solid divenne tra i giochi più attesi come esclusiva PlayStation. Uscirà ufficialmente nel settembre del 1998, per poi giungere in Europa solo l'anno successivo. Venne, e viene ancora aggiungerei, considerato un capolavoro sotto tutti i punti di vista. In primo luogo per la presentazione cinematografica in cui la cura verso ogni singola inquadratura era palpabile. Le idee innovative di Kojima, che si ripresentavano rinnovate dopo l'uscita di due titoli. La colonna sonora mozzafiato e indimenticabile. I boss unici e anche loro, indimenticabili. La storia è così matura e adulta. Ci potremmo perdere a forza di continuare questo elenco. Questo gioco fu la prova che Hideo Kojima era in grado di fare tutto quello che aveva sempre desiderato. La tridimensionalità offerta dalla PlayStation gli aveva dato la possibilità di porsi dietro il gioco, come se avesse una macchina da presa virtuale in mano, sfruttando le tecniche cinematografiche all'interno del prodotto videoludico. La sintesi che aveva sempre cercato tra la sua passione per il cinema e il mondo dei videogiochi. Non stupisce infatti l'omaggio che risulta evidente a moltissimi film. Uno su tutti la scena finale di Metal Gear Solid, quella con il volo delle colombe. Beh, è un richiamo alla filmografia di John Woo, ma i titoli che si possono citare sono innumerevoli. Come La grande fuga del 1997, Fuga da New York di John Carpenter, al quale dobbiamo anche il nome di Snake. Intrigo internazionale, Il Fuggitivo, ma anche tutti i film di James Bond. Metal Gear Solid è la rappresentazione più completa del suo pensiero, a cui affida tutti i temi che gli sono più cari, il rischio e il pericolo del terrorismo. L'uso che si può fare della tecnologia, la coscienza di sé, il rischio di un'eccessiva informatizzazione e le conseguenze che comporta. È riuscito ad unire elementi di fantapolitica con temi attuali a distanza di così tanti anni, se ci pensate trasmessi in un modo unico, sfruttando strumenti come trailer e titoli di testa, entrando sempre in qualche modo in contatto con il giocatore. Questa alternanza tra il realismo e la metanarrazione rappresenta il filo conduttore dello stile narrativo di Kojima. Non è il giocatore che viene istruito su come salvare la partita, ma lo stesso Snake. Il protagonista della storia non dovrebbe preoccuparsi di essere all'interno di un gioco, ma Metal Gear non si fa problemi a confondere quel sottile confine tra finzione e realtà, spingendo sempre a collegare il diegetico con l'extra diegetico. Come l'istruttore di Snake che si perde nelle spiegazioni su tattiche di infiltrazione e sopravvivenza, ma allo stesso tempo consiglia di riposare adeguatamente, il riferimento è sempre al giocatore. Oppure come la mitica boss fight con Psycho Mantis, in cui per sfuggire alla sua lettura della mente bisogna spostare in tempo reale il controller dallo slot 1 allo slot 2. Scelte di gameplay e scrittura impareggiabili. Già dall'avvio del gioco, l'impatto cinematografico si vede subito calare nella narrazione, con un'introduzione che sembra quella caratteristica di film o delle serie tv, in cui vengono presentati i nomi degli attori e una voce fuori campo accompagna una lunga cutscene realizzata con lo stesso motore grafico del gioco, e mentre le immagini scorrono ci contestualizza la situazione. Solo allora compare il menu, come assegnare il passaggio della narrazione nelle mani del giocatore, per non parlare poi della scrittura accurata e stratificata dei personaggi, in cui ognuno ha le sue motivazioni e le sue sfaccettature personali. Lo stesso Snake non vuole essere trattato come un eroe, del resto lui è ciò per cui è stato addestrato, cioè un soldato, ma sappiamo che c'è molto di più e che la sua esistenza non si riduce solo a questo. Dopo essere arrivato al suo apice massimo con Metal Gear Solid, Kojima sente di aver dedicato quasi tutta la sua carriera alla saga, e quindi ritiene che sia arrivato il momento di muoversi verso altri orizzonti, ma allo scenario che gli si presenta vede l'arrivo delle versioni provvisorie di PlayStation 2 con una potenza hardware mai vista prima d'allora. Lui però si fa tirare da una proposta di portare Metal Gear su Game Boy Color, per sfruttarne il successo prima che si chiude il suo periodo d'oro. Lavorò quindi su un progetto che avrebbe dovuto ereditare lo spirito di Metal Gear, riportandolo agli albori delle sue dimensioni, a metà tra l'originale e il Solid, e ciò che ne venne fuori fu un ibrido con visuale dall'alto e che sfruttava al massimo le possibilità degli sprite, con una trama non canonica ma che riscosse un buon successo alla sua uscita, nel 2000, e rinominato Metal Gear Ghost Bubble. Quello che sarebbe dovuto essere il sequel vero e proprio aveva una sceneggiatura avviata già da tempo, con eventi che si svolgevano in Medio Oriente, anche se successivamente il setting venne rivisto, considerando l'inasprirsi della tensione fra gli Stati Uniti e Iraq. Si optò quindi per ambientare la vicenda a New York, con un setting specifico, pensato prima su una porta aerei ma poi ridimensionata su una petroliera. Un team quindi partì per la grande mela per iniziare la fase di raccolta di informazioni e fotografie, mentre Idio cercò di fruttare il budget a sua disposizione per trascinare nel progetto un personaggio famoso per la composizione musicale. La prima scelta fu Hans Zimmer, che purtroppo si rivelò eccessivamente costoso e quindi si optò per Henry Gregson Williams, con cui si stringerà un sudalizio che durerà più di dieci anni. Non attuò un'opera di totale rinnovamento, anzi nel più grande rispetto del lavoro già svolto recuperò i temi principali di Metal Gear per poi renderli più articolati e complessi, creando sonorità uniche. A livello grafico invece fece concentrare il team sullo sfruttare ulteriormente le potenzialità della PlayStation 2, focalizzandosi sul conteggio poligonale che raggiunse cifre da record e sulla resa degli elementi atmosferici per incrementare quanto più possibile la credibilità degli ambienti e dei personaggi. Una cosa che Idio aveva molto a cuore era la circolazione delle idee all'interno del suo team, a cui dava la possibilità di dire la propria e proporre qualcosa da inserire all'interno del gioco, come lo divenne il nascondersi negli armadietti oppure esporsi dagli angoli. Raffinò ancora di più il sistema per infiltrarsi, sfruttando le potenzialità grafiche acquisite e in sviluppo, oltre che a dare un nuovo stimolo alle fasi dell'individuazione. Ora infatti lo stato di allerta dei nemici avrebbe iniziato a crescere dopo la prima individuazione, in accordo con una riscrittura molto accurata dell'IA, resa possibile solo grazie al contributo di Motosada Mori, la consulente militare del team che insegnò loro tutto quel che c'era da sapere riguardo le armi e a come si muove un commando. La credibilità assunta dal gioco fu incredibile, grazie anche alle nuove tecniche di motion capture. Trascorsero due anni prima di pensare di far vedere la luce al progetto, che accadrà nel 2000 e grazie alla sua fedeltà grafica e il rendering di 60 frame al secondo diverrà tra i giochi più attesi dell'anno avvenire il 2001. Fu a questo punto che avvenne un intoppo, perché le alte aspettative dei fan misero un senso di responsabilità su IDEO non da poco. Al fine di portare la migliore esperienza possibile, avviò un processo di revisione dello scenario originale, rendendosi conto che la nave cisterna non avrebbe potuto supportare tutto il gioco, e scelse così di ambientare una parte su una piattaforma petrolifera. Dover attuare un cambiamento del genere causò grandissimo stress e tensione nel team. Come se non bastasse, stava covando un dettaglio nascosto non di poco conto per questo gioco. Coinvolgendo il character designer Yoji Shinkawa, lavorò sulla creazione di un nuovo personaggio giovane e bellissimo che potesse allargare l'audience del gioco, e di cui sarà una conoscenza in pochissimi. L'idea era rischiosa perché potenzialmente una buona fetta di fan probabilmente non avrebbe approvato di non giocare tutto il tempo con Solid Snake, ma per IDEO valeva la pena spingere su questa novità. Tanto che all'E3 del 2001 presentò un trailer colmo di sequenze fittizie atte unicamente a nascondere la presenza di questo personaggio e a depistare i fan. L'anno di uscita concise con l'anno dell'attentato alle torri gemelle, e con il massimo rispetto verso l'accaduto, Kojima eliminò una porzione di gioco proprio alla luce della tragedia. Gli ultimi aggiustamenti quindi vennero fatti a fine anno, preparando il terreno per l'inizio del 2002, quando uscì con il nome di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Il risultato delle vendite fu ottimo, raggiungendo il milione di copie vendute nei primi giorni fino ad arrivare ad oltre 7 milioni. Kojima sentì di essere arrivato al capolinea della storia di Metal Gear ed era quindi pronto a cedere il testimone a qualcun altro che ne portasse avanti la fiamma. Ma ecco, il ritiro non si rivelò un'opzione percorribile, perché nessuno, ma proprio nessuno, si propone di prendere il suo posto. Cosa restava da fare allora se non lavorare al terzo capitolo? Il problema sostanziale era però che Ideo sentiva di aver raccontato tutto ciò che aveva in mente su Solid Snake, per cui l'unica cosa era quella di raccontare la storia da cui tutto era cominciato. Rispolverò così gli appunti e concept iniziali che aveva accantonato e che prevedevano un'ambientazione nel bel mezzo di una giungla, irrealizzabile all'epoca del concepimento, per le possibilità dell'hardware e probabilmente anche per PlayStation 2. Non si poteva però attendere una nuova console, quindi il team si mise al lavoro sulla ristrutturazione del motore grafico per migliorare il migliorabile, come la resa di geometrie più complesse o dell'illuminazione fino alla resa della vegetazione. Per farlo organizzò nuovamente dei viaggi in ambienti simili nei pressi del Giappone. Tornò nuovamente a rivelarsi prezioso il contributo di Motosada Mori, che istruì stavolta i membri della squadra in merito alle tecniche di sopravvivenza, e il risultato dell'esperienza sarà il ritorno all'idea della giungla abbinata alle atmosfere tipiche dei film di James Bond, un miscuglio tra sopravvivenza e meccaniche di infiltrazione nel periodo della guerra fredda, che influenzerà anche il catalogo delle armi disponibili ben più arretrate del passato. Per facilitare al meglio il lavoro al team di sviluppo, temendo che il cambio del setting potesse creare problemi, Idio pianificò minuziosamente i contenuti. Ogni avvenimento, dialogo, inquadratura venne dettagliatamente approfondita in una sceneggiatura al dettaglio, e con questa base si premurò di far circolare nuovamente le idee di modo che tutti potessero sentirsi realizzati nel vedere una loro idea concretizzata all'interno del prodotto definitivo. Tuttavia, il problema più grave arriverà solo durante le prime prove di giocabilità, dove apparirà evidente che le possibilità di PlayStation 2 sono esaurite, e quindi l'unico modo per mantenere credibile la giungla selvaggia e la fedeltà grafica sarà quella di dimezzare il framerate, e purtroppo quello fu solo l'inizio di altri problemi. Infatti il passaggio da ambienti chiusi a terreni irregolari causò un vero e proprio shock a causa del numero incalcolabile di elementi da inserire, dagli elementi climatici e effettivi contenuti, che richiedevano un aggiornamento non da poco del motore grafico e della motion capture. Nonostante le difficoltà, ancora una volta Kojima puntò moltissimo sugli intermezzi cinematografici di livello sempre altissimo, che erano ormai parte della sua firma creativa. Metal Gear Solid 3 Snake Eater uscirà sul finire del 2004, riscuotendo un buon successo, anche se la differenza con gli altri capitoli si rivelerà bissale. Successivamente si proporranno altri titoli inerenti alla saga, sperimentando le diverse piattaforme, tra cui la PSP con una versione integrale del terzo capitolo, aggiungendo anche la componente multigiocatore. Tuttavia, essendo diventato nel frattempo vicepresidente della sezione Konami Japan, Kojima iniziò a essere super impegnato, al punto da scegliere di sganciarsi nel 2005 per poter fondare la Kojima Corporation, da modo di poter continuare ad essere direttore e supervisore di tutti i titoli legati a Metal Gear. Tuttavia ormai credeva di essere giunto al limite, non poteva dare più niente, al punto che quando iniziarono a farsi concrete le voci in merito all'uscita di un quarto capitolo, lui preferire legarsi al semplice ruolo di producer e lasciare il progetto in mano a Shuyo Murata, che era stato nel gruppo degli sceneggiatori del secondo capitolo. E qui, ancora una volta, coloro che dovrebbero supportare l'opera e capire il motivo di una simile decisione, decisero di dare il peggio di sé arrivando a creare una situazione tale di avversione e minacce da costringere Idio a rivedere la sua decisione, ma con una premessa che voleva essere un monito molto severo. Metal Gear 4 sarebbe stato l'ultimo capitolo con Solid Snake e avrebbe chiuso il suo arco narrativo. Anche qui si partì recuperando un vecchio concept di scenario, ambientato in una guerra totale in Medio Oriente, e si iniziò a svilupparlo sfruttando come prototipo il motore grafico del terzo capitolo. Iniziavano a farsi strada anche i prototipi della PlayStation 3, ragion per cui pensò di poter puntare sulla complessità e una dinamicità grafica di un certo livello. Le idee che Idio voleva introdurre ricordavano la distruttibilità degli ambienti e la creazione di un movimento dei personaggi, fluido e dinamico. Solo testando, però, ci si rese conto che si era volati un po' troppo alti, per cui ci si dovette riadattare, eliminando le mappe aperte e rinunciando all'idea della distruttibilità dell'ambiente. Il team continuò a seguire il solito protocollo, quindi compiendo delle visite nelle varie location per ricrearle nel motore di gioco, pezzo dopo pezzo, fino a ritrovarsi tra le mani la pellicola di un film che ritraeva un enorme campo di battaglia medio orientale con un'IA sofisticata dei nemici in grado di adattarsi alle diverse situazioni della guerra. Si operò nell'adattare il sistema di mimetizzazione del terzo capitolo di modo che si plasmasse sullo scenario mutevole, che mano a mano si presentava dando la possibilità di gestire la telecamera direttamente al giocatore. L'anteprima delle 3 del 2006 incuriosisce i fan, catturati soprattutto dall'invecchiamento di Snake. Come già è capitato, però, i problemi tecnici si ripresentano. Tra la volontà di concretizzare le ambientazioni iniziali e le successive rilavorazioni si venne a creare un enorme ritardo, per cui il gioco risultò piuttosto scarno dal punto di vista dei contenuti e oltretutto era pieno di bug. Ma Ideo, ancora una volta, non ci dette e preferì fare ulteriori tagli al concept iniziale e dedicarsi, oltre alla risoluzione dei problemi, alla cura dei filmati e dare una degna conclusione al suo Solid Snake. 4 anni di lavoro per cercare di creare una mappa aperta, ma costrette a ridimensionarsi. Mentre alla sua uscita un gioco come Assassin's Creed veniva acclamato per i suoi scenari graficamente incredibili, fu un colpo duro per il gruppo. E lo subì anche all'uscita, le cui vendite di Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots nel 2008 servirono quasi praticamente a ripagarsi solo degli investimenti fatti. Nei mesi successivi si tentarono vari fronti, dagli spin-off su diverse piattaforme mobile alla gestione della componente online. L'unico vero progetto in cui Ideo credette fu quello di una parte degli sviluppatori che volle tentare di lavorare nuovamente sul personaggio di Raiden e per cui affidò i lavori a Mineshi Kimura, tra i migliori game designer dell'azienda. Purtroppo però il progetto non decollò come sperato, per cui si dovette coinvolgere un altro studio, il Platinum Game, che con Ideo come supervisore lo portò a termine nel 2013, facendolo uscire con il nome di Metal Gear Rising Revengeance. Ideo quindi si decise a fare un ultimo sforzo per l'azienda. Lui e il suo team avrebbero lavorato su un motore grafico che potesse essere destinato alla multipiattaforma e quindi un engine in grado di essere un riferimento per tutta Konami. L'engine venne mostrato in anteprima all'E3 del 2011 e la demo ambientata nella giungla fece esaltare i fan che reputarono in arrivo un'altra avventura. Ma l'unica certezza era quella volontà di dare un ultimo contributo alla saga, portandola nell'open world, stavolta sul serio. Per cui Ideo raccolse un'altra volta il suo team, assumendo anche un gruppo di talenti all'estero che lo istruissero al meglio sull'argomento. A parte il nuovo tentativo di sviare l'attenzione dei fan mettendo in piedi un falso studio di nome Moby Dick Studios e un ipotetico titolo con molti punti in comune con Metal Gear, l'annuncio ufficiale del nuovo gioco uscirà nel 2013. Purtroppo ne verrà fuori il titolo più sacrificato di tutta la saga, in primis per l'abbandono della voce storica di Snake, sostituito da Kiefer Sutherland, ma soprattutto per il taglio netto alle sequenze cinematografiche. La produzione verrà rallentata. Saranno fatti continui ritocchi al budget, sforando alla fine di oltre 80 mila dollari, ma soprattutto sarà un'incessante lotta tra la volontà di realizzare determinate ambizioni e la loro irrealizzazione. E fu forse proprio a causa delle frizioni accese durante la produzione di questo gioco che avverrà la rottura nel marzo del 2015, sancendo la separazione ufficiale tra Kojima e Konami. Terminerà il progetto in corso, dopodiché ogni suo legame con la saga sarà concluso, portando anche alla rimozione del suo nome dal materiale e dalla copertina del gioco. Senza dubbio fu la chiusura di un sodalizio epocale. The Phantom Pain riuscì a mala pena a ricoprire gli investimenti fatti e lo sforamento di budget. Il risultato era dovuto a vari fattori, trama scarna e al di sotto delle aspettative. Passaggi fondamentali ridicolizzati nelle registrazioni audio, l'espressione più lontano possibile dalla filosofia di Kojima. Ma ragazzi, considerata la separazione avvenuta, non credo ci potevamo aspettare diversamente. Concludiamo dunque questa storia pensando al percorso di un giovane che voleva dimostrare quanto valeva e che ci è riuscito a più riprese. È riuscito a realizzare le proprie ambizioni, più e più volte, sacrificando quando necessario i contenuti piuttosto che tradire la loro unicità. Un uomo che ha realizzato qualcosa che, bene o male, che possa piacere o meno, si è rivelato il punto di partenza di un genere, di un modo nuovo di vedere il mondo videoludico e di un nuovo modo di raccontare una storia, partendo da una semplice passione e rendendola lo stimolo necessario per superare gli ostacoli e raggiungere i propri obiettivi. Il mio racconto, ragazzi, è finito e io come di consueto vi ricordo che per supportare gratuitamente il mio canale potete lasciare un mi piace, lasciare un commento e condividere questo video con i vostri amici. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima!